Ragazzi vi faccio vedere un kit di trasformazione per picchetti composto dai tre componenti più venduti vediamo, sono i traccetto standitravi da 30 cm, la vaschetta porta a escheco e la sgancio rapido e il tubetto portali, tutto insieme, ma il bello è che non va a soluzione come tipo va praticamente su qualunque picchetto da pesca il primo accessorio da utilizzare è questo, il porta componenti universale e prolunga lo inseriamo nel picchetto, andiamo a stringere, adesso questo ha con sé due filettature laterali una a destra e una a sinistra dove andremo a mettere, da una parte il braccetto standitravi con la pettine e dall'altra parte la vaschetta con la profonda porta a esche, il porta aghi dove lo mettiamo? e prima di andare ad avvitare i componenti laterali andiamo subito a vedere dove mettere il porta aghi ho svitato una delle due viti posteriori del porta componenti ed una vita la andrò a sostituire con la clip del porta aghi farà sia da clip porta aghi che da vite porta aghi messo ora blocchiamo dell'artenza desiderata, di solito sotto al bicchierino da un lato avvito il braccetto standitravi, la piastrina per la vaschetta sgancio d'acqua ecco qui, in un unico kit applicabile a qualunque bicchetto che sia di forma ovviamente angolare possiamo avere una schietta per le esche, aghi dell'esco e tratti, questo con evo drivato